Buongiorno a tutti, benvenuti a questa presentazione di questo sesto rapporto sul profumatismo per una volta è un piacere per noi ospitare a questo evento che è un prestigioso appuntamento di dialogo tra enti di regolazione, imprese e consumatori. È quasi una consuetudine ormai diventata perché ricordo che è stato presentato proprio in questa sala il primo rapporto, quella ipodizione sullo stato dell'arte del consumerismo che è stata inaugurata in quell'occasione a quale gli anni si è consolidata e è diventata così importante. Quindi un evento importante conosso da Consumers Forum che negli anni tutti abbiamo preparato poi alla fine a conoscere ad apprezzare l'utilizzo. La giornata è anche la testimonianza del percorso di collaborazione che sempre di più vede un percorso maturo e storico tra istituzioni, tra rappresentanze dei consumatori e tra rappresentanze delle imprese. Voluto da Consumers Forum che è proprio luogo di sintesi, se vogliamo, di questi interessi e l'ambito in cui questi rapporti si possono consumare. E non è un caso secondo me che questo avvenga proprio qui in Unione Camere che come dice sempre il nostro Presidente D'Ardonello, che si scusa per non essere qui perché è impegnato a Bruxelles, è la casa delle Camere di Commercio ma è anche la casa delle imprese e la casa dei consumatori, cioè di tutti quei soggetti che sono i protagonisti del mercato e quindi anche la casa degli enti che vogliono e che fanno le regolazioni del mercato. Perché le funzioni di regolazione del mercato sono realizzate sì alla tutela dei consumatori, ma perseguono anche l'efficienza e la mobilità del sistema economico e cioè spingono i liberatori verso comportamenti vettorosi, contribuiscono quindi anche a definire le regole del giorno e quindi entro le quali le imprese devono e possono liberamente mettere in campo i loro comportamenti però naturalmente nel rispetto degli interessi generali, perché questo è quello che chiede anche il mercato e quindi un contesto in cui lavorare con delle regole che siano chiave, che siano un alterio e che siano un minimo, anche perché poi concorrenza significa anche maggiore efficienza del mercato e maggior benessere, anche e soprattutto che il concorrente più dietro, che è quello appunto che nella contrattazione ha maggior benessere. Ecco questo è il compito delle autorità e più sommessamente, dico io, è il compito anche delle camere di comprensione, che però svolgono un'attività diversa, perché le autorità hanno poteri decisori, hanno poteri sanzionatori, eppure le camere che in qualche caso hanno anche queste competenze, hanno anche questi poteri di tipo sanzionatori, svolgono un approccio che è diverso, intanto perché questo deriva dalla loro natura, perché sono governate, le camere sono governate non solo dai rappresentanti delle imprese, ma anche dai rappresentanti del consumatore, e poi perché svolgono un approccio che appunto non è sicuramente sanzionatorio, ma che è diciamo di attenzione, di tutela del consumatore, ma anche di servizio e di accompagnamento all'impresa. In fondo questa è la riflessione, come diceva la professoressa Rossi Palleo, è la riflessione che questo sesto rapporto poi alla fine vuole avviare e vuole fare qui oggi, e cioè quali debbano e possono essere gli interventi dei soggetti che sono incaricati per il controllo della vigilanza del mercato in un momento così difficile, così particolare che il nostro Paese sta vivendo. Quindi ho ancora il benvenuto a questa, oggi, a questa presidenzialità e buon lavoro a tutti. Grazie.